piove giunta di tommaso ladra ecco questo potrebbe essere un bel titolo come una bella idea sarebbe quella di invitare il sindaco e tutta la giunta a fare una passeggiata qui passando su questo marciapiede come fanno tanti che qui a villamudi un quartiere popolare abitano e si regano e tornano da frascati a piedi come fanno tanti bambini che stanno qui in questa in questa scuola materna che durante la settimana vengono ripresi dai dalle mamme dalle nonne magari a piedi ecco incorrendo in una giornata come questa con l'acqua che sta defluendo da parecchio quindi la situazione non è al top non è quella che vedete ecco immaginate una mamma con un bambino che sta tornando a casa ecco qua passando su questo marciapiede e si veda docciata da una delle tante macchine che passano per questa strada alle prossime elezioni sapremo per chi votare per quale amministrazione che ha ben amministrato e che quindi giustamente si ripropone all'attenzione della cittadinanza e lì c'è il solito tombino magico che dovrebbe favorire il deflusso del delle acque invece siccome è intasato e nessuno si preoccupa di rimetterlo in funzione in modo adeguato, ecco, arca miseria, pure a me mi ha praticato.